ciao ragazzi come va spero bene per tutti è un bel po che non mi faccio vivo né casi della casa della vita per carità non è mica successo niente semplicemente tanti impegni tante cose mi è stato difficile sia andare un po in giro camminare fare che fare qualche video così anche solo informativo niente ho trovato questo progetto su internet ne sono venuto a conoscenza diciamo quasi per caso e l'ho trovato una cosa molto interessante praticamente si tratta di un progetto che tende ad aumentare la sicurezza di chi va in montagna o anche semplicemente di chi fa delle escursioni io vabbè non vado in alta montagna per carità faccio cose molto più come dire a portata d'uomo mettiamola così però la cosa mi è sembrata insomma importante mettiamola così ecco tra l'altro con questo sistema insomma ho letto che degli alpinisti sono stati salvati in situazioni di pericolo vediamo un po come funziona praticamente ci si scrive su un sito e lo stiamo vedendo qui in questa home page dove chiaramente descritto il funzionamento praticamente bisogna unirsi di una radio ricetrasmittente come per esempio questa spero che si veda radio ricetrasmittente pmr quindi che non richiede il patentino da radio amatore ma comunque richiede degli adempimenti e magari di questo parliamo dopo gli adempimenti sono abbastanza semplici cioè bisogna pagare 12 euro l'anno c'è un bollettino postale un bonifico bancario e bisogna fare quella che si chiama una dia cioè dichiarazione di inizio di attività questa cosa va fatta a un ufficio del ministero insomma ripeto poi magari ne parliamo dopo guardiamo un attimo come è fatta la home page di questo sito praticamente ecco qui possiamo vedere che c'è una mappa dove sono indicate le persone che in questo momento sono in attività essendosi iscritte a questo sito quindi uno praticamente si iscrive gli viene dato un identificativo e questo identificativo vediamo in un'altra pagina è un identificativo regionale cioè ogni regione è distinta da una prima parte dell'identificativo poi c'è una parte numerica quindi per esempio io risiedo in lombardia tutte le persone residenti in lombardia avranno un identificativo charlie più un numero progressivo il mio per esempio è charlie 333 cioè 333 se vediamo qui di fianco in questo riquadro dove vengono indicati gli ultimi identificativi radio assegnati vediamo che l'ultimo è charlie 418 vuol dire che in lombardia si sono iscritti a questo servizio 418 persone e così via quindi vediamo che piemonte alfa lombardia charlie valle d'aosta bravo alfa bravo charlie delta eco sono gli quello che noi usiamo praticamente quando dobbiamo fare lo spelling poche parole che usiamo i nomi delle città i radiamatori internazionalmente usano invece questo 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 alfabeto qui quindi alfa è la lettera a bravo la lettera b chat e la lettera c ecco giusto per divagare un po' niente una volta fatta questa iscrizione che è gratuita al momento quindi non si paga niente chiedono soltanto i dati anagrafici della persona perché perché in caso di bisogno praticamente i servizi di soccorso possono accedere a questo database e in base all'identificativo quindi se una persona chiede soccorso e dal suo identificativo possono in praticamente leggendo in questo database avere i dati personali della persona che deve essere soccorsa e praticamente anche dei dati ulteriori che la persona può mettere nella sua home page quindi mi scrivo do i miei dati mi viene mandato una mail con il mio identificativo assegnato e una password per poter accedere al sito personale vediamo il mio tanto non c'è niente di particolare di nascosto quindi si fa un login ecco la pagina al personale cioè che uno vede quando fa il login è più o meno questa il mio identificativo ecco c'è da dire una cosa per evitare di riempire credo il database di cose che poi uno magari si iscrive non lo usa più l'iscrizione vale sei mesi e viene prorogata di sei mesi in sei mesi ogni volta che uno accede alla propria home page quindi io per esempio mi sono collegato oggi la mia iscrizione è stata estesa da oggi per sei mesi e viene riportato in alto qui praticamente ecco sotto è possibile e vabbè si può accedere direttamente da qui ma comunque anche adesso non mi ricordo se dall'alto va bene insomma comunque si possono inserire i famosi numeri IC e ICE cioè in caso di emergenza quindi c'è un modulino dove posso inserire i numeri che voglio che vengano chiamati nel caso io abbia un'emergenza quindi non so il numero della moglie il telecelicolare della moglie piuttosto che della fidanzata di un fratello di un parenti di un qualcuno che se io dovessi avere un'emergenza loro quindi questi dati vengono passati ai servizi di emergenza possono contattare cosa succede che partendo vabbè qui c'è una serie di statistiche utenti attivi in questo momento sono le 7 di sera ce ne sono 19 e sono quelli che abbiamo visto praticamente qua questi 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 qua che possono essere sia stazioni di ascolto quindi uno può dalla sua casa tenere accesa la radio e ricevere eventuali richieste di soccorso perché la cosa non è che c'è una centrale operativa cioè sono tutte le persone che si sono iscritte a questo servizio chiamiamolo così che tenendo accese le proprie radio quando vanno a fare un'escursione e eventualmente ripeto anche dalle loro case trovandosi in zona vicino a dove normalmente le persone fanno escursioni quindi qui possiamo vedere per esempio Torino ai piedi delle montagne quindi persone che abitano da queste parti possono tenere accese le proprie radio e ricevere le richieste delle persone che stanno facendo delle escursioni che si dovessero trovare in difficoltà attenzione nel sito è ben chiaro questa cosa è da usarsi nel momento in cui uno non riesca a contattare il servizio di soccorso con altri mezzi cioè comunque uno si porta il cellulare però è chiaro che in molte zone montuose il cellulare purtroppo non ce la fa cioè non prende perché non ci sono le stazioni e torri quello che serve solo per farli funzionare in quel caso appunto si può utilizzare questo servizio quindi chiamare qualcun altro che è in ascolto sulla radio e chiedere soccorso ripeto la cosa ha funzionato perché se andiamo giù ecco qui c'è una mappa con gli iscritti praticamente regione per regione più o meno qua di sotto avevo visto ecco qui c'è proprio un articolo si vede alpinista in difficoltà sul monviso il cellulare non prende diranno una chiamata di emergenza sul canale 816 della RRM sì perché effettivamente la radio va sintonizzata su un canale PMR che è il canale numero 8 subtono 16 adesso è un po' vabbè spiegare cosa vuol dire è abbastanza semplice come complicato non dilungherei troppo magari se ne può parlare successivamente comunque nel sito è scritto chiaramente bene le istruzioni ci sono non è che uno va lì così perché sopra qui c'è proprio scritto non so come partecipare cosa c'è da sapere cosa bisogna fare appunto per poter utilizzare una radio e tutte queste cose qua quindi ritorniamo un attimo nella pagina personale dalla pagina personale praticamente la persona può e questa è la cosa anche come dire importante adesso vediamo se ci andiamo da qui no forse si allora vediamo attività no qui allora si ecco le mie attività quindi praticamente io posso praticamente inserire adesso la pagina non è proprio questa ma bisogna un attimo come dire ecco qua no è questa programma un'attività quindi praticamente se io decido di fare un'escursione molto semplicemente entro in questa pagina e descrivo l'escursione che vado a fare cioè dove vado a che ora penso di iniziare a che ora penso di finire se appunto quali tipi di radio porterò con me quindi qui vabbè la radio primaria è obbligatoria perché se almeno non c'è quella uno non può fare niente quindi appunto una PMR446 sintonizzata sul canale 8 subtono 16 è possibile anche utilizzare una radio CB sintonizzata sul canale 16 FM o una radio VHF però questa richiede il patentino da radio amatore quindi ripeto lì vabbè si parla di altre cose seleziono la regione insomma il posto dove andrò a questo punto dovessi ripeto avere un problema o qualche cosa rimane una traccia di dove volevo andare di che percorso volevo fare perché c'è anche una parte descrittiva sotto quindi uno può proprio descrivere materialmente parto da qui vado là poi vado da un'altra parte poi faccio questo giro quindi se dovesse avere diciamo anche problemi di localizzazione vedendo più o meno la strada che in teoria avrei dovuto fare chi deve venirmi a prendere in qualche modo è più aiutato rispetto a non sapere cioè sono su quel monte là è ok ma che strada avevi fatto dove volevi andare niente cos'altro si può dire mi sembra più o meno di aver detto tutto tutto cioè bisogna le parti salienti mettiamola così ecco per il quanto riguarda appunto l'utilizzo e delle radio PMR ripeto sono di libera vendita sono di libera detenzione ma l'uso quindi l'uso l'accendo e ci parlo non è cioè è libero ma soggetto a questa specie non dico di permesso perché non è così ma di adempimento quindi pagare 12 euro di che loro dicono che non è una tassa ma è un contributo di controllo e fare questa dia cioè la dichiarazione di inizio attività nel caso non fosse sufficiente quello che c'è scritto sul sul sito della rete montana io ho scritto un un riassunto di quello che sono riuscito a capire nel mio sito e qui niente trovate se la cosa vi interessa una descrizione di come si deve praticamente fare per avere insomma non avere erogne ecco se ci fosse un controllo per cui devo dimostrare che ho fatto questi adempimenti la radio che ho preso è una midland g9 si trova su amazon per dunque mi sembra l'ho pagata 65 euro una cosa del genere è una radio bibanda quindi fa pmr ed lpd lpd è un'altra serie di frequenze meno potenti cioè che trasmettono con una potenza minore della della pmr e perché anche la radio deve essere omologata non basta fare quelle due quelli due adempimenti ma anche la radio deve essere omologata per rispettare certe caratteristiche altrimenti non è utilizzabile e ho idea neanche da un radio amatore perché i radio amatori hanno delle frequenze specifiche che possono utilizzare una radio tipo le bau feng per dire che si vedono e che costano molto meno e sono molto più potenti non sono omologate e quindi non si possono utilizzare si possono detenere in teoria perché non è come un'arma che devo avere il porto darmi anche soltanto per tenermela in caso cioè se vado in armeria non me la vendono ecco una radio la posso comprare però in teoria in pratica non la posso usare il fatto è che se me la trovo nello zaino poi è un po' dura dire che si vabbè ma io ce l'ho lì e non la uso e ce l'ho lì solo per guardarla ecco quindi va bene si va insomma ci possono essere problemi niente poi magari cercherò se fa piacere di fare un video magari sulla radio specifica per vedere un attimo come funziona e le caratteristiche pur essendo una radio di limitata potenza mi è capitato da dove abito e stiamo parlando della provincia di Milano di sentire persone che stavano sul monte san primo il monte san primo per capirci è più o meno da queste parti qua e io sto da queste parti qua e siamo a una sessantina di chilometri di distanza in linea d'aria questo perché queste radio praticamente in città al massimo fanno un chilometro tra i palazzi in aperta campagna piatta da uno all'altro possono arrivare sui 5 chilometri se invece uno dei due sta in alto tutti e due si sta in alto si possono fare tranquillamente anche 40 chilometri di distanza tra uno e l'altro cioè bisogna essere praticamente in vista in linea d'aria senza ostacoli in mezzo niente se c'è qualche domanda ben volentieri e se no ci sentiamo alla prossima e spero il più presto possibile ciao a tutti e alla prossima ciao a tutti